Ne parliamo, ossia l'idea paventata, molto vaga, di un ritorno al calcio di Francesco Totti. Mamma mia, già ai tifosi della Roma, tra i quali io mi annovero, insomma, già abbiamo le nostre preoccupazioni. Ora, metteteci pure questo. Secondo me invece lui va visto giocare, caro Giorgio, e dice meglio di due o tre di quelli. Credo che tu abbia ragione. Guarda che ritorna De Rossi, ma non per allenare, per giocare. Facciamoli tornare tutti e due, stiamo a posto. A questo punto, dai, si riforma la copia. Si sta scaldando anche Roberto Pruzzo, credo. Comunque, dette queste amenità, è vero. Allora, nel corso della presentazione di un progetto dedicato a Batson Sport Club, Francesco Totti, che è brand ambassador del marchio, ha rivelato ci sono state squadre che mi hanno chiamato e mi hanno fatto venire idee strane. Aspetta, squadre che serie? Di serie A. Di serie A? Non ha voluto dire naturalmente, ha detto che naturalmente non è la Roma, non è la Lazio, anche per ovvi motivi. E però pare che ci sia stata una squadra di serie A che l'abbia contattato in qualche modo. Tenete conto che lui ha 48 anni e ormai è ritirato dal calcio dal meno 7. Dal 2017, ricordo maggio 2017. Speravo di morire prima. E proprio di quel giorno lì. 30 maggio, pensa. Forse mi ricordo pure la data. 30 o 29. Un po' scherzando, un po' no, questo è il suo virgolettato. Mi dovrei allenare, però in due o tre mesi guarda che sarei pronto. Due o tre mesi! Potrei disputare una buona mezz'ora o fare l'uomo spogliatoio e portare i cinesini. Che sono i coni. I coni. I coni. Aiutare, insomma. Aiutare per il riscaldamento. Detto questo, la sua classe non si discute. Sulla tenuta fisica è da verificare. A parte che nel calcio, come negli altri sport, tornare dopo tanto tempo è pericoloso. E credo che lo sappiano anche i nostri ascoltatori, che cercano comunque a una certa età di ritornare a fare i giovani nel campo. Lo so che ci siete lì, i megalomani. Siete lì con una gamba appoggiata sulla sedia con una fasciatura. A 48 anni torno a giocare a tennis con i ragazzini. Mi metto lì con queste racchette più facile. Per la gioia dell'ortopedico di turno. Già lì è pronto a sfregarsi le mani. E fisioterapisti. Sono quelli proprio baciati dalla fortuna. Io farei anche però quelle attività non solo sportive. E anche che richiedono comunque una certa destrezza per le quali sei scarso. Rimarrai a essere scarso, ma sei convinto che un tempo eri forte. La storia dello sport però è piena di ritorni. Però delle persone che sono tornate ce ne sono. Esatto. Nel gennaio del 1983 Borga aveva solo 26 anni e si è ritirato dal mondo del tennis. Fu uno shock. Me lo ricordo. Perché stava piuttosto all'apice della forma. Ritornò però nel 1991, otto anni dopo. Otto anni. Giocò ancora per tre anni. Non vinse più un titolo. Ma forse neanche un set. Io me lo ricordo. Piuttosto affannato diciamo. E beh ma sai, poi quello è uno sport molto di movimento. Ma anche mentale secondo me non c'è più la testa dopo un po'. Magic Johnson ritornò a giocare nel 1996 dopo quattro anni, due mesi e ventitré giorni da chi aveva lasciato lo sport e che lo aveva elevato a icona planetaria. E anche lì mi pare che non fu memorabile. Però ci sono anche i ritorni vincenti. Ci furono i ritorni vincenti. Nicky Lauda, vi ricordate l'incidente terribile nel 1976, Gran Premio di Germania, ne uscì distrutto nell'animo e nel corpo. Ritornò però nel 1982 e nella stagione 82-83. Nella stagione 83-84 vinse addirittura il titolo davanti a Prost per mezzo punto. Insomma, è una cosa incredibile. Fu incredibile questa performance. Dai ce n'abbiamo un'altra al volo. C'è George Foreman, Big George, ve lo ricordate? Pugile. Rumble in the jungle, la finale di Kinshasa. Livo Maier, uccidilo, uccidilo. Insomma, una cosa storica per lo sport. Lui tornò, allora, dal 69 al 77 vinse tutto quello che c'era da vincere, a parte Ali che lo sconficeva regolarmente. E poi è ritornato tra l'87 e il 97, molto appesantito e ha vinto un altro titolo dei massimi, se non sbaglio. Però riguardando il match c'è qualche dubbio. Era molto, molto appesantito. Molto ben ricitato, ma... Ma lui è quello dell'orecchio mangiato da Tyson. No! Ma siete sicuri? Oddio, sai che forse sì? Eh sì, è lui. Che è lui? Adesso perché? Faccele al microfono e smetto! Non ce le buttare in diretta, lo sai che faccia così? Guarda, vorrei pure citare, sono quasi sicuro che anche Mohamed Ali fece un ritorno sul ring per un paio di incontri, insomma, una roba poco fortunata. Comunque, in generale vorremmo parlare con voi dei vostri grandi ritorni. Grandi ritorni. Holyfield. 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 Vi volevo dare questo, sì. È Holyfield. È Holyfield. Era un po' troppo vecchio, forse. Vabbè, non me guardate così, era una domanda. No, era una constatazione la tua, magari fosse stata una domanda. Allora, a proposito di precisazioni, il 28 maggio 2017 è il giorno dell'addio al caso. Il ritiro, e poi il 17 luglio hanno fatto la festa allo stadio. Sì, il compreanno. Beh, festa, si festeggiava. Ah, ti auguri. L'ultima partita fu il 28 maggio. Stava parlando di Francesco Totti. 342-0000-700. I vostri ritiri, insomma, quelli finti ritiri, con i finti ritorni, con grandi risultati, che poi quando si ritorna, a volte si ritorna in ginocchio. Per forza, è la prima cosa che salta. No. No.